Ciao a tutti ragazzi, come sempre prima di cominciare con il video voglio ricordarvi che ogni lunedì facciamo una nuova giveaway e spiegherò in qualsiasi momento durante il video come partecipare, quindi seguite il video fino in fondo e buona fortuna a tutti. E se non siete iscritti potreste considerare l'iscrizione e di attivare anche la campanella, sarebbe assolutamente fantastico e quindi grazie mille ragazzi, adesso cominciamo con il video. Ragazzi oggi vi mostro qualcosa di pazzesco perché la storia si sta ripetendo proprio adesso, stiamo vedendo qualcosa che sta accadendo proprio ora, una cosa che abbiamo già visto anche in passato e l'ultima volta che è successo abbiamo visto delle mosse folli in Bitcoin, quindi vi parleremo anche di ciò che dovete sapere adesso a riguardo, parleremo di tutto quanto quello che dovete sapere anche sia nel breve termine ma anche nel lungo termine e quindi come sempre bentornati a tutti, mi chiamo Marco, portano un video riguardo le cripto di giorno, mostrano come fare i soldi in questo mercato e se non siete iscritti potreste considerare l'iscrizione e direttamente che la campanella sarebbe assolutamente fantastico. E quindi ragazzi cominciamo subito con il grafico da 4 ore perché abbiamo visto una bella spinta in Bitcoin, abbiamo incontrato una resistenza verso la fascia lancione in alto e onestamente sapevamo che questa sarebbe stata una grande resistenza ma guardate questo fatto perché abbiamo trovato supporto proprio in questa zona e quindi la resistenza precedente ora ha retto il prezzo di Bitcoin e da questo punto stiamo iniziando a fare un paio di candele verdi per adesso. E quindi cosa possiamo aspettarci per le prossime due settimane? Bene, credo ancora che vedremo un'azione instabile, in generale vedremo movimenti instabili del prezzo in questo modo e durante questo periodo saremo in grado di realizzare molti profitti, naturalmente questo qua è ciò che stiamo facendo in questo canale, questo è il motivo per cui condividiamo le nostre opportunità di trading con voi ma credo che il peggio sia già passato e credo che con il tempo inizieremo a spostarci verso un tipo di mercato più rialzista in generale e quindi saremo rialzisti con questa azione instabile sia verso l'alto che verso il basso e da questo punto cercheremo di spremere la maggior parte dei profitti. Invece adesso se controlliamo anche il grafico da 30 minuti, abbiamo il canale di cui abbiamo parlato di recente, ci stavamo consolidando all'interno di esso e finalmente ieri abbiamo avuto un breakout da questa formazione, quindi questo era uno schema nelle breve termine ovviamente e ora stiamo anche vedendo questo aspetto negativo da questo breakout di questo canale ma guardate questo fatto perché abbiamo rispettato la linea di tendenza più volte durante la salita e quindi questo qua è stato un ottimo canale per fare il trading all'interno di questo schema ed è quello che intendiamo quando diciamo che avremo molte azioni instabili anche sui tempi più brevi e potremo comunque realizzare molti profitti facendo trading in questi grafici specifici. Naturalmente se volete acquistare anche il livello di supporto, in quel caso avrei utilizzato uno stop loss appena poco più in basso di questo livello ma se avete fatto trading in base a questo schema ed avete fatto molti profitti, bene, congratulazioni a voi cercheremo di portare più opportunità del genere anche per il breve termine in questo periodo e naturalmente ragazzi se volete anche richiedere dei bonus avete fino a 4580$ su Bybit assicuratevi di iscrivervi utilizzando il link in descrizione e questo vi dà un bonus maggiore rispetto alla semplice iscrizione a Bybit dove non ricevete molti bonus. Ebbene ragazzi, invece adesso possiamo anche controllare il grafico settimanale e possiamo vedere che nulla è cambiato molto, i mercati tradizionali invece sembrano abbastanza decenti però adesso stiamo continuando la tendenza al rialzo ma ho un grafico molto importante che voglio mostrarvi quindi quello che possiamo vedere adesso è che se guardiamo questa media mobile verde inclinata verso il basso questa è in realtà la media mobile giornaliere da 50% quindi è la media mobile da 50% sul grafico giornaliero mentre la linea arancione è la media mobile da 200 settimane naturalmente abbiamo parlato molto di questo livello in passato e poi più in basso abbiamo la media mobile invece da 300% sempre nel grafico settimanale e quindi adesso voglio rimpicciolire e voglio mostrarvi che la linea rossa è qualcosa che abbiamo quasi colpito durante il crash del Covid il prezzo non è arrivato fino a questo livello ma guardate questo fatto perché se avete acquistato in questo tipo di struttura in quel caso siamo saliti subito dopo quel punto in poi e il fatto è questo perché abbiamo avuto un breakout verso l'alto della media mobile da 200 settimane proprio in questo caso ed abbiamo avuto un breakout verso l'alto della media mobile anche da 50 giorni fino a questa linea verde che abbiamo ed abbiamo visto appunto dei bei rally verso l'alto per Bitcoin ma adesso guardate questo perché stiamo vedendo la media mobile da 200 settimane o la linea arancione e la media mobile da giornaliera che è la linea verde in questo caso inclinata verso il basso quindi siamo nel mezzo di queste due proprio adesso e vedremo se riusciremo a chiudere al di sopra di questo livello ma ancora una volta l'ultima volta che abbiamo chiuso al di sopra di questa media mobile da 200 settimane o l'ultima volta che ci siamo avvicinati alla linea rossa in basso che è la media mobile da 300 abbiamo visto una spinta recente verso l'alto una volta che abbiamo avuto un breakout dalla media mobile appunto da 200 e dalla media mobile del giornaliera da 50 abbiamo visto un enorme rally in Bitcoin possiamo appunto vederlo in questo caso specifico e quindi questo è ciò che abbiamo visto nel caso precedente ovviamente non abbiamo ancora proprio raggiunto questo livello per adesso ma eravamo molto vicini in passato e siamo molto molto vicini anche adesso a questo livello molto importante in passato siamo sentiti dalla media mobile da 200 settimane e abbiamo anche assurato questa media mobile da 50 nel grafico giornaliero ma vedremo un aumento appunto dei prezzi così folle proprio come abbiamo visto in passato oppure questa volta sarà differente bene come sapete la nostra tesi rimane sempre la stessa penso che andremo ancora di lato penso che adesso andremo leggermente verso l'alto invece di continuare a scendere come pensavamo prima ma non credo che vedremo qualcosa di pazzesco come nel caso appunto precedente in cui siamo saliti molto molto di prezzo in passato questo qua è solo un confronto insomma con quello che abbiamo visto in precedenza ma in generale penso che inizieremo a cambiare lentamente lo slancio del mercato e adesso ragazzi voglio anche parlarvi riguardo Tesla perché in realtà ha avvenuto 936 milioni di dollari in Bitcoin ovvero il 75% delle sue partecipazioni e la ragione di ciò è che hanno affermato che data l'incertezza dei lockdown in Cina per via del Covid avevano bisogno di contanti ha aggiunto però che Tesla è disposta ad aumentare la sua esposizione in Bitcoin in futuro e questo dovrebbe essere preso come un verdetto su Bitcoin adesso fermo un attimo il video vi spiego come partecipare alla giveaway per partecipare alla giveaway dovete semplicemente essere iscritti al canale e rispondere a questa domanda nella sezione dei commenti pensate che continueremo verso l'alto a breve termine o che andremo più in basso fatemi sapere nei commenti e inviate anche il vostro portafoglio di Binance Bar Chain altrimenti non possiamo selezionarvi come vincitori e giusto per chiedere basta inviare il portafoglio una volta soltanto anche se rispondete a più domande e a più video e noi controlleremo l'indirizzo tramite lo storico dei commenti e quindi buon affortunato e adesso continuiamo con il video e inoltre un altro punto di volatilità per la prossima settimana sarà la legge sulle stable coins vedremo cosa andranno a proporre in questo disegno di legge della prossima settimana ma qualunque cosa accada avrà una sorta di effetto anche sul mercato quindi dobbiamo prepararci per quello che vedremo la prossima settimana e noi continueremo a darvi anche aggiornamenti in merito mentre ci avviciniamo al giorno esatto ma volevo solo sottolineare anche questo fatto adesso e ragazzi insomma questo qua è quello che per voi per quanto riguarda questo video fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto e come sempre ci vediamo nel prossimo